Stato Flavio un altro mondo, un altro mondo, Brasile, 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 du Brasile andiamo al Rio Grande Ah, d'Alberto e Mingo, i miei preferiti ormai noi siamo di casa qui da loro e... un calore tutto l'anno c'è qua andiamo, balliamo, mangiamo e beviamo delle bevute tipiche brasiliane Buonasera, come sta il suo avviso? 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 Adopo! Ciao, guardate una bella brasiliana, bello che è tutto, ha tutto, ha gli occhi, ha gli occhi brasiliani, il seno brasiliano, vero, vero? È scemo, eh? No, il seno sono scemo italiano, io scemo italiano, tu sei bella brasiliana, il culetto brasiliano... Perché il Brasile solo c'è questo? No, il Brasile non c'è solo questo. No, il Brasile c'è la samba, c'è altre cose, il churrasco, la piccagna, c'è il mare, c'è Ronaldinho, Certo! Però gli italiani sono belli, vero? Sono belli, però... Ci sono bellissimi, vedi? Bacino, bacino... Bacino, bacino, bacino... Certo! 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 можешьi e abbonati! È parrucca! Sì, sì... È parrucca! Ma io ho tè un cabello, ho tè un cabello! Tenho un cabello! Sono i suoi capelli! Sì, è tutto! Dai, non ci credo! come ti chiami? Valerio dove sei? Brasiliano però parli italiano ti capisci bene? si ti manda a quel paese lo sai fai vedere che sei brasiliano samba? è brasiliano doc grazie vera brasiliana stiamo cercando quelle vere brasiliane sono io no no perché ci sono delle imitazioni italiane vorrebbero essere un po' brasiliane a volte no io sono 100% vera brasiliana vera originale brasiliana vera brasiliana anche lei doc al passaponto sei brasiliana? brasiliana si 100% vai Ana no fai vedere aspetta aspetta per vedere se sei brasiliana guardiamo di qua sei brasiliana vedi dove sei? come? e dove sei? brasile 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 vera brasiliana originale vera brasiliana vera brasiliana vera brasiliana vera brasiliana grazie per la nazionalità no sei brasiliana no sei brasiliana DJ vero di Musca House te lo sai allora rio grande rio grande ecco grazie 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 Siamo in Brasile Sì ma qui hai fatto la bandiera italiana però eh No ma guarda Cioè è il nostro amore È il nostro amore Sei metà e metà insomma Sei metà e metà Sei metà Metà uomo Firenze è calorosa come il Brasile? Sì sì tanto Luglia è calorosa Luglia è agosto Però basta venire qua Rio Grande a luci viene il cavallaccio E a luglio e agosto tutto l'anno Lo vedi? No perché di solito sai cos'è? Questo è indumentare Questo tipo di vestimento è quello che si usa Nel sud del Brasile Per il lavoro per tutte le cose Lui è il barman di qua Del Rio Grande Sono tutti tutti I brasiliani tipici brasiliani Quindi se volete una capirigna Qua è tipica brasiliana Se volete la birra brasiliana Però te sei specializzato nella capirigna Lei cosa vuole? Cosa? Eh? Cosa ha chiesto? Eh la capirigna ecco Capirigna? Ah va bene va bene Ti dico una cosa Che noi brasiliani Se non si sa fare una capirigna Cosa si fa? Non sei brasiliano Non sai proprio fare Ah Non sei brasiliano Le brasiliane invece se non hanno il sedere bello Non sono brasiliane No 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 va bene Il sedere è anche il seno Ah C'è questa cosa E invece le italiane? Le gambe Le gambe Le gambe sono bene davvero Eh RIO GRANDE BRASIL Capirigna Capirigna Che lui mi ha detto Se un brasiliano non sa fare la capirigna Non è brasiliano Non è brasiliano È vero E qui a Rio Grande Tutte le persone che lavorano qui Sono tutte brasiliane 100% Hö assurance Mas la k sudda Non si blockato Non si blockato Non si blockato Non si building Non si boom Non si bollano Non si Rogers Stas In Visit trees On le gambe Am Lio grande per te, eh? Per me è l'angolo di Brasile a Firenze, la grande appassionata di Brasile. Perché? Ma mi chiedo perché sei appassionato nel Brasile? Uno mi viene in mente le donne, è vero. Però sinceramente la verità non ne ho avute molte di brasiliane né qui né in Brasile. Non ne ho avute molte? È l'unico paese in cui mi sono sentito un'altra persona. Ho avuto la fortuna di girare parecchio. Come ti chiami? Gabriele. E invece in Brasile ti sentivi Marta? No, proprio Marta no. Magari un altro Gabriele, quello sì. Come succede a lei? Magari più avanti mi posso sentire anche Marta. Quindi quando entriamo qui a Rio Grande ci sentiamo delle altre persone, più vive, più simpati e più felici. Sì, sì. Diciamo di sì. Allo spirito del Brasile. E te no? Sì, sì. Qui, dovete venire qui. Ha capito? Ha capito? Ha capito? Avete capito? Come si lixa in Brasile? Saúde! Yeah! Sortium! Vai! Tcham! Hey! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.